Le nuove tecnologie nell'organizzazione della scuola e nella didattica. Questo è il filo conduttore del seminario svoltosi nella giornata di mercoledì 2 febbraio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli e Naudi di Todi in occasione della presentazione della completa reinformatizzazione del polo tecnico e professionale Tuderte. I lavori sono stati introdotti dalla governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, la quale ha sottolineato come la Regione si è impegnata su più fronti per colmare il divario digitale tra diversi territori e tra le fasce di popolazione adulta, affiancando l'azione mirata della scuola a favore della generazione studentesca. Il preside del Ciuffelli Naudi, Marcello Rinaldi, ha evidenziato lo sforzo economico e progettuale con il quale l'Istituto ha rivoluzionato l'intera attività didattica e gestionale. Dal punto di vista amministrativo, una scuola complessa, con tre sedi grandi, con sei ordini di scuola, sei indirizzi di istruzione, significa uniformare le pratiche amministrative, significa poter avere un controllo vero nell'ambito della vita scolastica così articolata in maniera differente. Più profondamente a questa direzione è invece l'incitere di queste metodologie nell'attività di aula, nella classe, cioè quindi nei processi di apprendimento. Le nuove tecnologie permettono di avere tempi di attenzione, di avere modalità più consone alla vita quotidiana dei ragazzi che già per loro uso, per loro cultura, per loro comportamento di vita, stile di vita, usano questi strumenti in maniera diffusa. Quindi significa entrare nel loro modo più, nel loro modo di ragionare, di articolare i saperi, di articolare la conoscenza. Davanti ad una platea di docenti e studenti, il professor Davide Diamantini dell'Università di Milano ed il dottor Matteo Mocci della Master Training hanno parlato nello specifico degli ambienti di apprendimento digitale, paragonando la portata dei nuovi strumenti ad uno tsunami tecnologico senza precedenti. Le nuove tecnologie stanno migliorando l'apprendimento all'interno dell'ambiente scolastico e anche l'amministrazione della scuola. Sono due aspetti distinti. Parto dall'amministrazione. Programmi studiati per agevolare il lavoro delle presidenze, dei docenti, delle segreterie, riescono a migliorare la struttura della scuola, tutto ciò che è operativo, ma soprattutto noi ci orientiamo verso il secondo aspetto, migliorare la didattica, offrire degli strumenti aggiornati, come possono essere lezioni interattive multimediali basate su concetti completamente nuovi che stanno rivoluzionando la didattica in Italia e offrire all'utente finale, il ragazzo e le famiglie, un insegnamento adeguato ai tempi, appoggiandoci quindi alla tecnologia non per rendere spersonalizzato l'ambiente scolastico, ma ottimale l'apprendimento. Per sintetizzare quali sono le nuove opportunità che le nuove tecnologie offrono in ambito didattico, si possono riprendere pochi concetti, ma essenziali. Il primo è che la scuola deve diventare coerente con la dimensione esistenziale dei ragazzi. I ragazzi oggi sono permeati dalla tecnologia, usano tecnologia in tutte le loro attività e quindi anche nella scuola devono ritrovare l'ambiente che caratterizza la loro vita, i loro modi comunicativi. La scuola deve aprirsi sulle potenzialità di conoscenze e di comunicazione nazionale e internazionale che sono offerte dalle nuove tecnologie e da tutto il repertorio di conoscenze che si possono trovare in rete. Altra novità rilevante è rappresentata dal book in progress, ovvero la distribuzione agli allievi dei libri di testo scritti dai docenti della rete nazionale e stampati all'interno della scuola. Book in progress non è un prodotto, non è l'acquisto di un libro a basso prezzo, ma è un progetto, cioè è la condivisione di docenti di un percorso che porta alla produzione di testi loro stessi, di testi che loro nelle modalità e nelle articolazioni che credono più opportune per la loro disciplina. Quindi significa non solo un enorme risparmio a livello economico, si parla di 70, 80, 90% rispetto al costo di mercato, ma significa anche rendere più mirato, un testo più mirato, la didattica che poi useranno concretamente.